Ormai i ladri si attaccano davvero a tutto. Clamoroso furto nella notte a Gubbio al bar-ristorante La Cia, in cima al Montengino, ad essere presi di mira tutti i tavolini e su pellettili esterni. È stato infatti completamente trafugato l'arredo che allestiva alla terrazza esterna del bar, dove quotidianamente, soprattutto in questa stagione, sono numerosi coloro che si recano per un momento di relax e ristoro a pochi metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Ubaldo. Il tutto è accaduto stanotte. Il locale infatti è rimasto aperto anche ieri sera, fino alle 21.30. Nel dettaglio sono state trafugati quattro divanetti, otto poltrone, quattro tavolini. Ora la terrazza si presenta completamente vuota e non sembrano esserci peraltro segni di tentativi di effrazione all'interno del bar o del ristorante, il che fa presupporre che si sia trattato di un colpo mirato, anche se non si esclude pure una remota ipotesi di atto puramente vandalico. La prima ipotesi comunque resta la più presumibile, anche perché da indiscrezioni sembra che ci siano testimoni che abbiano visto un furgone a girarsi nella zona intorno alle due del mattino, un orario decisamente insolito per una visita in Basilica. Il furto è stato ovviamente denunciato ai carabinieri di Gubbio, che hanno aperto un'indagine.